Oggi presenteremo un nostro edificio che abbiamo partecipato a progettare e a costruire, quindi abbiamo seguito anche la fase di esecuzione, si tratta di un edificio residenziale certificato Casa Clima A che è stato premiato quest'anno al Casa Clima Award tra i 25 progetti finalisti e ha avuto il quarto premio del pubblico. Si tratta di un edificio residenziale ricostruito sulla base di volumi, superfici e sagoma di un edificio preesistente, quindi si tratta di una ricostruzione a nuovo di un edificio preesistente che ha una struttura mista in calcestruzzo e legno per il quale abbiamo studiato sistemi di isolamento che ci permettessero di avere una omogeneità di comportamento per quello che riguarda le trasmittanze delle strutture, i valori di sfasamento e di attenuazione. Una particolare attenzione per questo edificio è stata dedicata alla fase esecutiva per la quale abbiamo studiato un metodo di lavoro sistematico che abbiamo portato anche in cantiere e che ci ha permesso di coinvolgere tutti i progettisti e le imprese in un team di progettazione integrata che ci ha permesso di tradurre i contenuti di efficienza energetica e di qualità dell'edificio secondo il protocollo di certificazione Casa Clima fino all'esecuzione e fino al completamento dell'edificio. Possiamo dire che è stato un caso di successo perché abbiamo ottenuto la soddisfazione del committente e anche una soddisfazione degli operatori che hanno lavorato, dai progettisti alle imprese perché è stata un'occasione per tutti per imparare qualcosa di nuovo.